Ciao ragazzi, benvenuti sul nostro canale, questo è il nostro primo video. Oggi vi mostreremo come abbiamo allestito il nostro fuoristrada esternamente per i nostri viaggi. Prima di tutto la nostra macchina è un Pajero 3 porte del 95, 2.8 con all'incirca 340.000 km. Sul davanti abbiamo sostituito il paraurti originale con un paraurti ad uso gravoso della Steelmove, faretti fendinebbia abbastanza antiquati che saranno da sostituire e piastre in mandorlato sul cofano autocostruite, più che altro per abbellire e renderlo un pochino più calpestabile. Per quanto riguarda la meccanica all'anteriore abbiamo sostituito gli ammortizzatori con due ammortizzatori maggiorati dell'XT, più 6. Abbiamo aggiunto un ammortizzatore maggiorato di sterzo della SCS 4x4 e abbiamo abbassato il differenziale anteriore con la staffa bassa differenziale, sempre della SCS 4x4, che serve soprattutto per riportare a lavorare i semiassi in posizione più naturale possibile dopo aver alzato la macchina. Per quanto riguarda i pneumatici abbiamo montato questi, maggiorati rispetto agli originali. Questi sono in misura 35-12-50-15, su cerchio Daytona con ET negativo meno 30. Poi troviamo il mozzo manuale che abbiamo montato per sostituire la flangia fissa originale Mitsubishi. In pratica serve per scollegare completamente la meccanica anteriore dalla ruota in modo tale che non giri niente quando noi percorriamo strade statali e autostrade e non abbiamo bisogno della trazione integrale. Passando poi al laterale troviamo il classico snorkel, che è l'aspirazione del motore solo portata più in alto. Poi abbiamo i paraffanghini, che sono quelli originali Mitsubishi, che avevano tutto il fascione collegato da davanti a dietro. Noi li abbiamo semplicemente tagliati, utilizzati solo il passaruota e tappati i vari buchi con dei livetti. Queste sono pedane artigianali che ho fatto io, sono in scatolato, sono fissate direttamente sul telaio della macchina invece che sotto la scocca, come quelle originali, perché comunque facendo fuoristrada un pochino più di robustezza non guasta. Per quanto riguarda la meccanica posteriore, anche qui abbiamo montato degli amorizzatori maggiorati più 6 sempre dell'XT, con relativa molla, anche essa più 6, e per andare ad ospitare i pneumatici maggiorati abbiamo dovuto installare anche un bodylift da 4 cm che si installa sui fuoristrada tra la scocca e il telaio, in modo tale da spessorare la scocca alzandola, lasciando più spazio per ospitare i pneumatici maggiorati. A posteriore troviamo sempre paraurti ad uso gravoso, sempre still move, ruota di scorta e una scaletta in alluminio presa da un vecchio camper, recuperata da un vecchio camper, che ci serve per salire sul tetto. Passando al tetto troviamo le tre barre portatutto, anche queste artigianali, perché di serie questo modello non montava le barre da tetto. Passando sopra troviamo il tendalino ARB laterale, di misura 2 metri per 2,10 o 2,20. Abbiamo il portapacchi sempre recuperato dal solito camper della scaletta, è un portapacchi in alluminio, abbastanza leggero ma molto robusto, che è stato riadattato alla misura del nostro tetto, per contenere le nostre due casse di stivaggio. Nella prima cassa, la posteriore, che è la più grande, troviamo al di sopra del coperchio un pannello da 100 watt, un pannello solare da 100 watt, e all'interno tutte le varie cose che ci sono utili per il campeggio. Abbiamo un gazebo Decathlon, abbiamo le classiche sedie, il classico tavolo della Decathlon, bacinelle per lavare i piatti, amache, tendalini, una prolunga classica da camper dalla 2,20 con presi industriali, e due tanniche che sono praticamente lo scarico del nostro lavandino, che poi vedremo in seguito. Passando alla seconda cassa, questa la usiamo in parte come officina, troviamo diverse boccette dell'olio motore, idroguida, olio freni, abbiamo la seconda batteria servizi, cric, accessori vari, un'altra cassetta degli attrezzi, una cassetta di bussole, qua abbiamo il caricabatterie, quello da collegare alla 2,20 tramite la prolunga che avete visto prima, con la presa che si trova dall'altra parte, una bombola del gas, classica camping gas, collegata alla nostra caldaia istantanea, che ci fornisce acqua calda per la doccia, lavar i piatti. Abbiamo la manichetta con i doccini e la pompa dell'acqua, e qualche ricambio per la macchina. Sotto alla seconda cassa, quella davanti dove c'è la caldaia e le varie attrezzature, abbiamo inserito tra lo spazio che rimaneva tra il portapacchi e il tetto della macchina, abbiamo inserito un serbatoio dell'acqua a misura, che porta all'incirca una quarantina di litri, e in più abbiamo aggiunto due tanniche simili militari qua sull'anteriore, per avere una scorta d'acqua per un totale di circa 60 litri. Per quanto riguarda la camperizzazione esterna, abbiamo finito, spero di avervi fatto vedere tutto, spero vi sia piaciuto, e a breve seguirà poi un altro video per farvi vedere la camperizzazione interna, e per qualunque tipo di domanda o richiesta, se non avete visto bene qualcosa, non vi ho spiegato bene qualcosa, scrivetelo pure nei commenti e vi risponderò molto volentieri. Ciao ragazzi, a presto! Ciao! Grazie per la visione!